Questo è Majed che sta agitando una bottiglia di fosforo bianco giustamente mi sembra una cosa salubre e dopo... ecco lì... Questo è il fosforo vicino alla coca-cola e... Sì, abbiamo visto il sentimento, è molto male. Penso che era i miei piedi. Il sentimento è molto male. Il sentimento è molto male, grazie. Scusa Barbara, prendilo con le mani anche tu, ne vuoi mangiare un pezzo. Vediamo Vittorio, se ci metta... Chi gli fa fare la fumata più grossa vince. Per un minuto senza stoppare. Per un minuto senza stoppare. Ma è ok, in casa, in casa... E' un po' un po' un po' E' un po' un po' un po' Vittorio, in quanto riguarda i soldi... E' un po' un po' un po' E' un po' un po' 3 mesi? 3 mesi dopo 3 mesi il fosforo bianco agitato in un barattolo fuma ancora prendendo ossigeno interagino di Pente Nuost Nove di Pente Nuost Quinti ti